FAM! Dabbers! Ok, gente, andiamo a risolvere un altro mistero. Oh, che cavolo, amico! Non voglio entrare lì dentro! Quel posto è inquietante! Ui, io c'accordo con lui! Lo faresti per uno Scooby Snack? D'accordo, gente, dividiamoci. Io andrò con Daphne. E Shaggy, tu andrai con Scooby. Ah, Fred, e io con chi vado? Non me ne fotte un c***o di te, Velma! Chiudi quella c***o di bocca! Sì, io c***o di bocca! Sì, io c***o di bocca! Oh, cavolo, amico, mi è venuta una fame da lupi! Beh, sì, ci sia qualcosa da mangiare in questo inquietante castello! Ah, ben fatto, Scoob! Hai trovato un Subway! Allora, ora che siamo soli noi due, ti andrebbe di limonare? Ah, sei proprio uno stronzo, Fred! Stavo solo scherzando! Voglio dire, forse sì o forse no, chi può dirlo? Ehi, ragazzi, ho trovato un indizio! C***o di bocca! Ehi, ragazzi, ho trovato un indizio! Uuuuh, che era un indizio! Oh, che è un indizio! Uuuuh, che è un indizio! Forza, ragazzi, andiamo... ...a fare qualcosa con questo indizio! Sì, vai! Ah, i miei occhiali. Dove sono i miei occhiali? Eccoli qua, Velma. Grazie. Oh no, un mostro spaventoso. Perché lasci che ti bullizzino, Velma? Non mi bullizzano, loro sono miei amici. Gli amici sono buoni con gli altri amici. Suppongo tu abbia ragione. Vorrei solo che mi apprezzassero. Io posso far sì che questo accada, Velma. Tutto ciò che devi fare è dire sì. Ok. Ok, gente. Cosa dovremmo farci con questo indizio? Ci sono. Dividiamoci. Io andrò con Daphne e Shaggy, tu andrai con Sco... Ehi, dov'è Scooby? Ehm, Velma? Ehi, ma che succede, amico? Ehm, Velma, sono la verba con me. Cristo santo! Io andrò con Velma. C***o, amico, io me ne vado da qui. Cavolo, amico, Velma è la migliora nera. Daphne, dobbiamo andarcene subito da qui. Cosa c'è che non va, Fred? Non devo più dire morale. No, no, non lo sta succedendo. No, noi amiamo Velma. Oddio, no! Cavolo, amico, uniti a noi, Fred! Non vuoi essere mio amico, Fred? È ora di andare, gente. Abbiamo risolto il mistero. Ed è stato tutto merito tuo, Velma. Sì, Velma, non ti erano con la merda. Sono davvero la migliore. Grazie, ragazzi. Vi va di andare a risolvere un altro mistero? No, fottiti, Velma. Non credo che nessuno dici, Velma, mi sapevo il mio carino. Cosa? Ma credevo che ora voi ragazzi mi apprezzaste finalmente. Stupida Velma. Avevo detto che ti avrebbero apprezzata se avessi risposto di sì. Ma tu hai risposto ok. Io posso far sì che questo accada, Velma. Tutto ciò che devi fare è dire sì. Ok. Sono miei ora. Oh, cavolo. Immagino che ora assorbirai anche me nella tua coscienza collettiva. No. Brutta testa. Coraggio, ragazzi, andiamo a risolvere un altro mistero. Oh, dannazione. Ciao ragazzi se il video vi è piaciuto come al solito fateci sapere qui sotto nei commenti apri papipapuru papipa e ora passiamo i saravappatitata d'altronde cioè i salumi allora io che sono se ci tenevo a salutare ale mariotti ciao ale quando vuoi vieni a sfidarmi sulla mia arena io che sono mario ci tenevo a salutare raggio di fuoco ciao raggio di fuoco mi raccomando continuati fare per me alla videogame competition anche se mi hanno cacciato ma sono dettagli ciao io sono ash e volevo salutare poggio ciao poggio vuoi entrare nella mia sfera ti faccio conoscere dart vader io sono carl e volevo salutare fabian costantin ciao fabian se vuoi contribuire al mio drago di carne mettiti in fila grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti